Tra le varie novità che abbiamo presentato il diffusore Goccia Venezia che ha delle caratteristiche particolari audio ed è fatto con dei materiali gli stessi che vengono usati praticamente per le imbarcazioni, quindi è resistente alla pioggia e alle intemperie. Un'altra novità è stato il diffusore Dimmi, in quanto è un diffusore che non ha più la cornice, quindi è un diffusore di particolare bellezza e ha una pieghettatura della retina che è stata da noi brevettata. Dopo questo periodo di blackout sicuramente questa fiera ci ha dato un riscontro notevole, si sensibilizzava proprio il bisogno di vari operatori di avere momenti di incontro, momenti di verifica. Siamo molto contenti del risultato ottenuto, ancora più lo siamo dei risultati che stiamo ottenendo dal punto di vista di vendita e di fatturato.